Siamo qui con il mister della Vigor, il mister Morelli, mister un successo che è stato assaporato fino agli ultimi minuti. Si vedeva che volevate questa vittoria, poi tre punti che sono sfumati solamente all'ultimo. Purtroppo la partita durano fin quando l'arbitro non fischia, non lo dico io. Mi dispiace tantissimo perché avevamo preparato la partita molto bene, credo che il Sambiase è stato contenuto, hanno avuto solo delle palle inattive, calcio di punizione laterale, qualche palle in aria di rigore buttata così ci può pure stare, contro la capolista gli concedi pochissimo. Il primo tempo ha avuto solo un'occasione, il secondo al gol. Dispiace perché noi abbiamo colpito anche, se non erro, due legni, anche un palo nel primo tempo, quindi qualche altra occasione potevamo essere più cinici, sotto porta. Ripeto, sono contento della prestazione ma sono convinto che ancora il campionato è lungo. Il campionato è lungo ma quantomeno oggi sulla carta non hanno pesato le essenze di Procopio e di Barbuglio. Non lo so, io penso proprio di no perché l'economia della squadra... La squadra ha reagito bene. Assolutamente sì, sono contento, io ho sempre detto che ho un gruppo e sto lavorando con questo gruppo e sono convinto che possiamo far bene. Siamo con il mister del San Biasi, mister Fanello, mister Unpari, acciuffato all'ultimo, veramente una partita all'ultimo respiro deciso. Hai detto bene, Unpari acciuffato alla fine, bisogna dare merito ai ragazzi che siamo riusciuti a crederci fino alla fine e quindi è un qualcosa che ci deve fare piacere e onore allo stesso tempo. Sicuramente c'è da dire che non abbiamo fatto la migliore prestazione da quando abbiamo iniziato il campionato. Infatti non la vedo molto soddisfatto, cosa non ha funzionato in questa squadra oggi? No, non sono soddisfatto nella prestazione, ci teniamo stretto questo punto ma sono una persona molto sincera e quindi le cose bisogna dirle. Non mi è piaciuto come la squadra ha giocato ma ci prendiamo il punto, va bene così. Un punto che comunque vi consente di rimanere imbattuti in questo campionato, almeno fino adesso, che convinzione mette alla squadra questo pareggio ottenuto in extremis? È un altro aspetto positivo questo che hai detto tu, nel senso che un pareggio acciuffato così in extremis può dare quella spinta in più nel crederci perché poi le partite si possono decidere o riacciuffare anche all'ultimo secondo e in questo come ti dicevo prima siamo stati veramente bravi.